Al netto dell'episodio che hai citato tu, devo fare veramente un grande applauso alla coralità di questa squadra perché nonostante venissimo da due vittorie e il mister avesse cambiato quelli che ipoteticamente erano i giocatori che avevano regalato due vittorie di fila, i ragazzi che sono entrati hanno fatto una grande partita, tosta e questo va a merito alla qualità della rosa, alla qualità degli allenamenti, alla qualità della benegazione che ognuno di questi ragazzi mette quotidianamente in settimana. Quindi il primo applauso è sicuramente per loro e soprattutto perché ripetere una vittoria in trasferta in questo campo con una squadra che gioca da qualche anno insieme sicuramente non è facile e non sarà facile per gli altri compagini venire qua e portare a casa i tre punti, quindi un doppio bravo a tutta la squadra. Per quanto riguarda la fase difensiva, la fase difensiva è una fase di coralità dove c'è bisogno di sacrificio da parte di tutti e non ci scordiamo che questa è una squadra nuova, nuova nel senso che sono stati fatti tanti cambi e come tagli c'è bisogno di tempo per amalgamare i giocatori, quindi non possiamo prendere in considerazione un precampionato dove comunque non abbiamo fatto tanti amichevoli, soprattutto non abbiamo fatto tante partite di spessore. Siamo partiti con la prima partita vera-vera che era con l'Udinese, poi ci siamo buttati nel campionato e poi ci siamo fermati, quindi c'è bisogno di giocare, c'è bisogno di mettere minuti, c'è bisogno di trovare i giusti equilibri e conoscerci e allora la fase difensiva diventa meccanica, diventa conosciuta da parte di tutti gli elementi e quindi diventa più tosta e più quadrata e allora arrivano i risultati, quindi c'è bisogno di lavorare con grande abnegazione, con grande spirito di sacrificio e anche oggi abbiamo messo un altro mattoncino verso quello che è il nostro obiettivo. I minuti non li guardo perché nella mia carriera mi è capitato più volte di stabilire dei record di imbattibilità, il segreto è giocare ogni partita con il piglio giusto, oggi quando la palla è uscita da quella mischia e ha avuto praticamente la porta spalancata onestamente ho temuto il peggio, poi lui è stato molto bravo perché ha calciato forte sono stato un po' avvantaggiato perché la palla era alta anche se era molto angolata e comunque sono riuscito a intervenire perché era giusto consolidare questa vittoria e blindare tre punti che per noi potevano diventare veramente importanti anche in chiave della partita di domenica.